Tutti con la paperella di nuovo! Yeee! Che bellina che sono! Troppo bellina! Lo sapevo che sarebbe arrivato il mio momento! Come la chiami? Dai, visto che sei così felice, dalle un nome! Quack! Non te lo chiederò mai più! Ahahahah! E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi! E io sono Steph! E questo giro chiama Roblox! E oggi ragazzi, siamo su The Elevator Remade, ovvero una versione rifatta di Normal Elevator! Esatto, ci avete chiesto davvero in tantissimi del Normal Elevator, noi però l'avevamo registrato! Purtroppo il programma di registrazione, come vi avevamo detto in una live, non aveva registrato l'audio! Quindi piuttosto che rifare quello e far finta che le cose ci stupiscano, perché comunque le abbiamo già viste, abbiamo detto proviamo questo, dato che è nuovo e lo stanno giocando in tantissimi! Siamo pronti? E sicuramente avrà tantissime cose diverse, non so cosa aspettarmi, non vedo l'ora di iniziare, ci sei? Io ho un po' di paura, perché ormai ho capito come funzionano queste mappe! Sono perplessa, non capisco questo piano! Cosa ci aspetta? Oh mamma mia, possiamo uscire? Possiamo uscire, è bello! Mi piace quando ci fanno uscire dell'ascensore! Ma doveva rampicarci tutto su? Credo di sì! Mi ha fatto cadere, no mi sono... Arriva l'acqua, arriva l'acqua, sì, corri corri! Come flutterscape! Sì sotto! Veloci! Dove devo andare adesso? Ma non mori subito, non mori subito! Esatto! Veloci! Sto panicando! Sto niente, via! Non vedo! Accidenti! È colpa mia se stai morendo! Non sono morta! Anche io! Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta! Sì è come flutterscape, bellissime, bellissime! Mi ha preso la sprovvista però! Eravamo tutti ammassati nello stesso punto, quindi non vedevo più dove dovevo andare, dove dovevo saltare, è stato difficilissimo! Cosa ci aspetta adesso? Mi metto in prima fila, voglio vedere subito cosa ci sarà! E se arriva una bomba? Sono in pavida, non mi interessa! Ma è pericoloso eh! La saprò schivare! Sono convinta che la saprò schivare! Con i te riflessi! Su, su, su! Ok! Oh, salve! Oh, che carino! Guarda, io mi metto in un angolo! Tu restatene lì! Ecco! Ecco no! Sono stata mangiata per prima, dato che ero in prima fila! Ma era così carino e puccioso! Guarda, io ho appena visto che era carino, ho capito subito che a qualcosa non andava! Ho provato ad andare nell'angolo, ma sai che mi ha preso lo stesso? Mi ha proprio aspirato, manco fosse l'aspirapolare! Ho fatto un tornado di aspirazione! Mi chiedo se ci poteva sopravvivere! Io ero proprio in prima fila, guarda, non c'era proprio scampo! La prima che è stata presa, guarda! Era l'antipasto del suo pranzo, no? Esatto, esatto! Guarda questo qui che si è incastrato nella porta, poverino! Ciao Spooky! Vieni, scendi giù! S'hai proprio incastrato tantissimo! No, nel frattempo, hai visto che aveva un panino, un tammezzino! Oh, cosa sta succedendo? Ragazzi? Che cos'è quello? Muori! Perché ci dice muori? No, no, no! Uno per uno, per uno, per uno! No, guarda il soffitto, il soffitto, il soffitto! Cioè? Il soffitto! Eh, non abbiamo scampo! No, siamo salvi, si è fermato così! Siamo coricati, non ci possiamo più alzare! Non muoverti, non muoverti! Ok, allora, 20 secondi e c'è una mucca! Buongiorno, mucca! Salve, Billy! Lì, questo è Billy! No, no! Che è successo? Credo che abbia ruggito! Io l'ho vista, ha fatto... Un ruggito letale, ha fatto! Ho pensato, forse è meglio mettersi a sinistra, poi boh, ho fatto, dai, no, non succederà nulla di strano, è una bocca! Sto notando che rispetto a normal e le vetro è molto più imprevedibile, capito? È molto più imprevedibile! Non riesci ad aspettartene manco uno! Sì, alcuni lì te li aspettavi questo zero! Oh, 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 che succede? Cosa sta succedendo? Cioè, è stato sommerso l'ascensore di oggetti? Da paperelle, costruzioni, perché sembrano i mattoncini delle costruzioni e siamo sommersi! Come stai? Siamo sommersi dai giocattoli, non ci piace? Mi sento un po' pesante oggi! È vero, sì, mi sento qualcosa sulla testa, come un gran mal di testa, ma ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo! No, io sono caduto fuori dall'ascensore! Ma com'è possibile cadere fuori dall'ascensore? Ma dai, ma nell'unico livello dove non si doveva morire sono morto! Sono scarsone! Scusate, aprite l'ascensore! Devo rientrare anche io, per favore! Salve, salve, lei come sta? Bene? È rocchettaro lui, guardalo! È super rocchettaro! Ho notato, ho notato! Ci siamo? Sì, ci siamo! 30 secondi, vai, 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 vai! È arrivato giusto in tempo per il prossimo piano, vediamo! Per questo livello non devo morire! A priori da quello che succede! Vediamo! Oh mamma mia! Zero! Dai! Qui ti lascia un po' di suspense questo! No, 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 no! Stai attenta, stai attenta! Levatemi! Un'invangione di noob! Ma che fanno? Che succede? Guarda in alto! Cos'è quella cosa? Aspetta, ci sono dei suoni strani! Guarda! Zooma un pochettino, la vedi meglio? Che è? È sembra una forza... Oddio! No, 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 ragazzi, sta cosa fa paura, eh! Oh che brutto! Ma che cosa dovrebbe essere? Cosa sono i raggi? No, 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 come sono questi cosi? Fanno male! Fanno male! Non li prendere! Sì, vabbè! Anche i cerchi, anche i cerchi! Non ci sono le palline! I cerchietti! Ma è insano questo ascensore! Concentrati! Abbiamo detto che non dobbiamo... Ma mi ha fatto malissimo! Anche a me ho perso metà vita! Mi ha fatto malissimo! Le api! No! Scriva le api! Scriva tutte le api! È il caos più totale! Di nuovo le api! Attenta, ce la possiamo fare! Possiamo sopravvivere! Ma non ho vita! No, no, no! È impossibile scrivarle, però! Sono morte! Non ce l'ho fatta! Credi me! Credi me! Ce la posso fare i cerchi? I pallini? Quanto manca? 28 secondi! Schiva! Schiva! Ci sono lombrichi che partono! Non ce la farei mai, guarda! Per quanto io possa credere in testa che non ce la farei mai! Ne ho ancora a metà! Ne ho ancora a metà! Ce la posso fare? Sei! Sei! Aia! L'importante è che non rifaccia quel raggio blu! Qual è stata la cosa peggiore? Sì, è stato terribile! Non me l'aspettavo, l'ho preso pieno in faccia quel raggio blu! È stato davvero terribile! Mamma mia, vai, puoi tornare! O ci sei di nuovo? Sì, ci sono, ci sono... Credo! Sì, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua! Guarda che succedono cose brutte in questo ascensore! Molto brutte! Non lo vorrei mai prendere nella vita reale! Comunque credo che in questo momento sia l'ascensore di Consolini, non The Elevator Remade! È proprio The Elevator Consolinis! Consolini! Noi, stavo pensando a un nome per quello, ci stavo riflettendo! Anche io, però non me ne veniva! Secondo me è meglio The Consolini Elevator! Ok! The Consolini Elevator! The Consolini Elevator mi piace un sacco! Sì, guarda, siamo praticamente tutti noi, ovviamente, abbiamo mandato via tutti e siamo riusciti a prendere tutto l'ascensore! Vai, qualcosa di bello, qualcosa di bello, forza, forza, forza! Oh no! No! Buio no! No! Ragazzi, qualcuno accenda la lampadina, per favore! Secondo me c'è qualcosa in mezzo a noi! Anche secondo me! Vero? Oh, lo sapevo! E' tutto a posto? Sei caduto di sotto? Sì! Io mi sono messa nella barra, perché ho detto, vedrai che adesso succede qualcosa nel pavimento! Ma non sono morto, però, credo! C'è una canzone sulle pappere! Piovano papperelle dal cielo! È bellissimo, è bellissimo! Uh, 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 che bella canzone! Uh, le puoi prendere! No! Prendila! No, voglio una papperella! La puoi prendere! No, datemi una papperella immediatamente! Datemi immediatamente! Tanto, si saltaci in mezzo, le puoi prendere! Datemi una papperella prima che finisca il tempo, dai! Ma ne ho preso tantissime, perché non me la dà? Non lo so, io l'ho presa, guardami, guardami! No! Dove sei? Mi vedi con la papperella in mano? No! Bonus duck! E ti dà anche un achievement, capito? Regalami la papperella! Quindi sicuramente era un qualcosa che non riescono a fare tutti, mi dispiace! No, non posso! Dammi la papperella! No, ormai l'ho presa, scusa! Ma sarebbe più carina nelle mie mani? No, mi dispiace, siamo tutti con la papperella! Dammi la papperella! Tranne te, tutti tranne te! Ma non me l'aspettavo, sembrava semplicemente una bellissima pioggia! Ma guarda che io semplicemente stavo saltando in mezzo alle papperelle e me ne sono ritrovata una in mano, quindi è andata così, insomma! Ingiustizie nel mondo! Prossimo livello! Salve! È un water! Allora, stiamo in grossi problemi, dice lui! In grossi guai! Ok! Ed è caduto per terra da solo, però! Credo che non sia normale ciò che sta succedendo! Allora, guardati le spalle! Sono molto più potenti di te! Ecco, 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 ecco! L'hai visto? Sì, me l'ho schivato! Anch'io! Finito, amico? Sì! Ciao! Ma con noi! Aiuto! Signore! Big Wig, vattene! Signore, scusi, 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 ne qua! Sta occupando un po' troppo spazio, sinceramente! Il noob nel frattempo è scomparso, alla fine se ne è andato in qualche piano! Sì, questo è l'ascensore dei consolini, non abbiamo inventato nessun water gigante! Quindi, sinceramente, se ne può anche andare! A meno che non mi vuole regalare una bella paperella, allora in quel caso potrei fare una strappa alla regola! In quel caso, quasi, quasi l'accetto! Dice che non mi dà nessuna paperella, è un po' antipatico! Allora, eh... Vulcano! Oh, mamma mia! No, no, filati di... No, aspetta, c'è qualcuno che... che lì sotto? Che stanno facendo questi due? Non lo so, però io mi arrimpicherei qua! Allora... Stanno... Stanno litigando? Sì, sì, sì! Si è fatta esplodere! Possiamo uscire! Non so cosa possiamo fare, ma possiamo uscire in questo momento! Allora... Prossimo piano! Vediamo cosa c'è! Vediamo... No, ti ruovo! No, 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 no! No, no, no! Mi metto in un angolo! No! Ti sta prendendo? No, sto riuscendo a non andare! Si è preso il tipo! Ha preso il water! C'hai fatta? Sì! Anch'io! Mi sono messo nel cartellone! Ha preso il tipo, quello che si chiama Big Wig, quello che è entrato nell'ascensore! Stavo cercando di resistere se l'ha mangiato! Io glielo ho detto che mi dava la paperella! Quello che chiedeva lo dog se l'hai preso! Io glielo ho detto, o mi dai una paperella, o qui non ci puoi stare perché non sei un consolino! Ecco! È stato portato via! Quello alla fine è uno dei consolini, capito? Eh sì! È una nostra arma segreta potentissima! Yeah! Tacos! Ne devo prendere uno! Ne devo prendere uno! Questa volta è mio per volta! Voglio un taco! Dai, su! Non è possibile! Ma perché io non riesco ad acchiappare nulla? Io non l'ho capito! Ah! Quello che brillucica si può acchiappare! Ah! Ok! Quindi per me è stato un caso! Ma voglio un taco! Perché non me lo date? Dov'è che brillucica? No, io non ci credo! Ma perché io non riesco mai a prendere nulla? No, non ce l'ho fatta! Non ce l'ho fatta! Peccato! L'avrei voluto! Erano bellissimi! Guarda i tacos che brillucicano e se li possono mangiare! Sto vedendo i consolini a mangiarsi il taco! È bellissimo! Adesso ci sono già due cose che io voglio! Ma guarda! È pieno di stelline l'ascensore ormai! È pieno di stelline! Almeno è un po' più allegro! Sai com'è? Eravamo un po' stretti, un po' troppi! Invece così è tutto un po' più bellino! Questa volta ce la possiamo fare! Ce la possiamo fare! Ce la possiamo fare! Questa volta ce la possiamo fare! Ho fatto cadere un po' di persone! Scusate! Allora vai! Forza! Vai! Forza! Forza! Ho trovato la mia strada! Nel senso che non ho nessuno davanti! Ed è la cosa più importante! Io sono dietro di te! Ok! Ok questo è così! Poi la strada adesso! Ok! Dov'è? È lunghissima! No vabbè! Ma noi siamo morti subito! Ma tu hai una idea di quanto è gigante? È difficilissimo! Oh mamma mia! No sono caduta di sotto! Dai! Posso recuperare! Posso recuperare! No! 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 No corri corri! No è difficilissimo! No non ce la faccio! E adesso però non vedi dove sono! Ah! È troppo difficile! Uh! Corri! No no no! Corri! Ce l'ho fatta! Ci sono dietro di te! Sì! Senza vita! Hai il trofeo! Hai il trofeo! Fai uno! Ui! E ce la possiamo tenere! Ma tu non hai capito! Che praticamente... Era insieme a te! Quindi puoi anche non raccontare perché ero davanti a te e ho visto tutta la scena! Cioè eravamo tutto il tempo in acqua e alla fine ci siamo arrampicati! Ho preso tutte le cose a casaccio e alla fine sono riuscita a uscire fuori ma l'hai vista la mia vita era bassissima però abbiamo un trofeo e ce lo meritiamo! Abbiamo un bel trofeo! Altro che papperelle! Guarda questo trofeo! Io però ho anche la papperella! Non ce l'ho bisogno! Sì! È il mio momento! Vai! È il mio momento ragazzi! Questa volta la devo prendere! Questa volta devo prendere la papperella giusta! Ce la puoi fare! Ce la puoi fare! Dov'è che cade? Dov'è che cade? Ecco l'ho vista una brillucicare! Eh sì! Si è fatta? Sì! Bravo! La papperella! La papperella di Steph! Oh che bellina! Ma mi rimane per sempre? Lo spero! Lo spero perché sarebbe bellissimo potersi tenere gli oggetti! È bellissima! Io voglio per sempre questa pappellina! È troppo bellina! Non l'hai vista che è troppo carina? Sì! Guarda tutti con la papperella di nuovo! Yeah! Che bellina che sono! Troppo bellina! Lo sapevo che sarebbe arrivato il mio momento! Come la chiami? Dai visto che sei così felice dalle un nome! Quack! Non te lo chiederò mai più! Di nuovo tu! Non ti è bastata la prima volta! Si è offeso dopo che è stato aspirato e distrutto nella volta precedente! Non ha capito che i consolini lo battono! Allora! Ma secondo me sai che sta per fare qualcosa di diverso? Dici? No forse no! Forse ha ammazzato giusto un po' di persone come sempre! Adesso ecco! Eccola qua! Ma poi perché prima ti ammazza, cerca di ammazzarti e poi vuole pure venire con te! Non capito! Secondo me perché libera un po' di sposto? Perché sa di essere gigante! Quindi libera un po' di spazio nell'ascensore e poi entra! Vabbè giusto sì! Capito? Un ragionamento corretto! Non ci credo! Cioè la coincidenza che è capitato subito dopo! Mi sono distrutta e sono stata presa pure io! Guardando lui che veniva aspirato! No vabbè! Vabbè! Io glielo ho detto! Io glielo ho detto che qua non ci può restare! Poverino! Davvero fantastico! Ragazzi in ogni caso ci fermiamo così dato che ci sembra che stiamo ritrovando sempre gli stessi livelli a questo punto! Quindi probabilmente li abbiamo fatti tutti o comunque ne mancano pochissimi! O giù di lì! Esatto! È stato davvero divertente! Sono troppo carine queste mappe! Sarebbe bello se ne facessero costantemente di nuove! Perché sono davvero divertentissime! Grazie per averci consigliato questo genere di mappe! Magari The Normal Elevator dato che comunque l'avevamo già registrata! Più che farci un video magari ci facciamo un petettino in live! Assolutamente! Perché comunque è molto divertente! Ha molte cose diverse da questo! Quindi sarebbe carino comunque farlo! Bene che si riuscì così! Se è giusto lasciateci un like! Questa è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao! Alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao!